Ah io neanche so chi è Pirandello Che cazzata Che cazzata Poi non so se è il caso di fare uno sgarbo a danno Dai apri là Ma non è indirizzata a me Allora la realtà non è oggettuale ma soggettuale Come facciamo con le battute e ripariamo a memoria? Sì Sì